qui io devo andare via devo partire devo prendere questo per fare la spesa mi serve poi c'è il giubbotto sei sopra tutto tutto si è messo sopra tutto beh cosa qui dai allora il giubbotto ecco il giubbotto lo riprendiamo la borsetta lì mi serve questa qui ci sei sopra dai che devo andare a fare la spesa dopo chiudono se no bravo bravo dai mettiti lì continua a fare il bagnetto bravo il bagnetto il bagnetto intanto vado a fare la spesa ti lascio qui così te fai il tuo bagnetto tranquillo e poi torno ciao picchi picchi bravo fa bagnetto ciao 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 ciao